Sicuramente ho tanti bei ricordi qui perché comunque l'anno scorso era un ATP 250, ho giocato bellissime partite quindi sono qui sperando di fare un'altra bella settimana al TC President ovviamente sono stato subito accolto benissimo, infatti ringrazio il Presidente, ringrazio tutti gli organizzatori mi sto allenando e martedì ci sarà l'esordio quindi speriamo sia un'altra bella settimana anche quest'anno Beh qua è un tabellone veramente duro, tutti i giocatori sono veramente forti, un 125 è veramente di alto livello quindi era difficile prendere un buon turno, Luca lo conosco bene, abbiamo già giocato due volte è uno dei giovani che mi piace di più, è veramente un grande talento, ha una semplicità nel gioco incredibile e io mi sto allenando bene quindi speriamo sia una bella partita Mi sento tanto responsabile, ho aperto diciamo una bellissima strada però adesso mi sono un po' stancato perché voglio ritornare anch'io ad alti livelli e voglio ritornare a giocare belle partite e salire in classifica quindi speriamo che possa essere a breve e sto facendo di tutto per ritornare in alto e speriamo sia una bella settimana